Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial in cui vi mostrerò come realizzare questi orecchini che sono gli orecchini appartenenti alla Parur Laguna che vi ho mostrato in un video precedente che vi lascio qui se non l'avete ancora visto e nulla sono degli orecchini molto molto semplici servono soltanto quattro tipi di perline un perno e una farfallina e sono leggerissimi da portare al lobo molto molto discreti e simpatici ecco passo subito ad elencarvi il materiale vi dico che registrerò anche il tutorial presto sia del ciondolo che del braccialetto intanto godetevi questo tutorial allora il materiale necessario è il seguente ci serviranno delle rocaille 15 0 io sto utilizzando le permanent finish calvanese rose gold ci serviranno le rose petals io sto utilizzando le crystal bronze pale gold 8x7 mm mi raccomando non quelle a quell'altra dimensione che mi sembra sia più più grande ci servono queste qua da 8x7 mm poi ci servono le pip io sto utilizzando le pastel burgundy 7x5 mm queste qua ci serviranno delle goccine delle drop io sto utilizzando queste dalla miyuki da 3,4 mm white pearl queste qua non fate caso a quelle altre che sono delle intruse perché nel pacchettino delle twin della preziosa ho trovato anche delle goccine del medesimo colore delle twin e quindi le ho messe qui in mezzo alle altre scusate poi ci servirà un perno io sto utilizzando questi qui da 6 mm rodiato di quelli fatti così piatti e lisci vedete così e naturalmente una farfallina per bloccare il perno io sto utilizzando queste da 5 mm e nulla passiamo dunque al tutorial il primo passaggio consiste nell'inserire non mi sono dimenticata di dirvi l'ago il filo allora io sto utilizzando l'ago misura 12 ci serve fino perché dovremo passare più volte all'interno delle 15 0 quindi più fino è meglio è e sto utilizzando del filo di nylon da 0,16 mm il solito che utilizzo io quello della capperland che trovo dal decathlon e naturalmente va bene anche il filo da tessitura e il fireline o qualsiasi tipo di filo trecciato ecco il primo passaggio consiste nell'inserire sul lago tre drop alternate da tre rocaille 15 0 ripassiamo in tutte le perline chiudendo a cerchio quindi facciamo un paio di nodini e nascondiamo il capo di filo più corto e tagliamo quello in eccesso e dunque proseguiamo dunque noi dovremo portarci ad uscire da una rocaille 15 0 io sto uscendo da questa ecco qua si mette a fuoco magari riuscite a vederlo comunque portatevi ad uscire da una qualsiasi rocaille 15 0 a questo punto dovremo inserire sul lago una rose petals un petalo dal lato che preferite io preferisco che metterlo in questo modo qui vedete da una parte concavo da una parte convesso io lo inserisco in questo modo qui e poi inserisco una rocaille 15 0 e porto quindi tutto giù ok a questo punto noi ci troveremo in questo in questa situazione vedete io salto la rocaille 15 0 che ho appena inserito non la lascio perdere e rientro soltanto all'interno del petalo vedete così ecco qua e tirando il filo vedremo che il petalo rimarrà bloccato grazie alla perlina che abbiamo aggiunto qua dietro vedete ecco qua a questo punto noi siamo partiti all'inizio da questa rocaille qui giusto ora dobbiamo rientrare al suo interno ma dalla parte opposta rispetto a prima se prima uscivamo da questo lato ora dobbiamo inserirci da quest'altro così in maniera tale che da ambei due i lati della rocaille il filo blocchi il petalo ecco qua ora vi mostro meglio il tutto ecco qua questo è il fronte del nostro lavoro vedete abbiamo le nostre tre goccine e qua abbiamo il petalo che come vedete è bloccato grazie alla perlina che abbiamo messo sul retro vedete noi in pratica siamo usciti da questa rocaille qui abbiamo inserito un petalo abbiamo inserito una rocaille 15 0 abbiamo saltato la rocaille 15 0 siamo rientrati nel petalo poi siamo passati nuovamente nella rocaille e questo dovremmo farlo per altre due volte in maniera tale da inserire tutte e tre i nostri petali ora lo faccio e poi ve lo mostro desidero mostrarvi nuovamente il passaggio perché temo possa non essere stato chiaro dunque una volta bloccato il primo petalo portiamoci ad uscire da un'altra rocaille quindi passiamo nella goccina e nella rocaille successiva quindi ora sto uscendo da questa rocaille qui quindi vedete ecco qua e cosa faccio? inserisco nuovamente il petalo e una rocaille 15 0 vedete? così oggi non so perché non riesce mai a mettere a fuoco ecco vedete ho inserito il petalo e una rocaille 15 0 porto tutto quanto in fondo al filo così e cosa faccio? salto la rocaille appena inserita e rientro nel forellino del petalo da dietro verso il fronte del lavoro e tiro bene il filo ok a questo punto dovrò come prima ripetere il passaggio cioè dovrò reinserirmi all'interno della rocaille di partenza ecco qua io sono partita da questa rocaille e mi inserisco al suo interno però dalla parte opposta rispetto a prima prima io uscivo da questo lato qui ora rientro da quest'altro ecco qua vedete? così e tiro bene il filo in questo modo avrò bloccato anche questo secondo petalo ecco qua cerco di tirare bene il filo in maniera tale che le perline si posizionino correttamente ora non preoccupatevi se i petali si muovono perché poi andremo a bloccarli con i passaggi successivi vedete? in questo modo ho anche il secondo petalo così si presenta il lavoro sul davanti e così sul retro ora proseguo allo stesso modo per il terzo e l'ultimo petalo inserito inserito anche il terzo e ultimo petalo il lavoro si presenterà così ora io mi trovo ad uscire da una goccina quindi che faccio? rientro anche nella rocaille 15-0 a fianco solo nella rocaille tiro bene il filo passo all'interno del petalo così e giro il lavoro in maniera tale che lavoro sul retro vedete? così mi inserisco all'interno della rocaille che sta attaccata al petalo così e a questo punto inserisco sull'ago una pip così e uscendo da questa rocaille qui mi inserisco in quella successiva così ecco qua vedete? ora inserisco nuovamente una pip e vado ad inserirmi all'interno della successiva rocaille 15-0 con questo passaggio noi andremo a stabilizzare un po' i petali inserisco una terza ed ultima pip e mi inserisco nella rocaille 15-0 di partenza e volendo rientrate anche nella pip successiva tanto adesso dovremo andare a fare qualche giro a vuoto all'interno di queste ultime perline aggiunte in maniera tale da stabilizzare il lavoro vedete? che si muovono tutte allora io adesso andrò a ripassare l'interno di queste ultime perline nelle tre pip e nelle tre rocaille 15-0 in maniera tale da dare più consistenza al lavoro e da bloccare un pochino di più le perline sentirete che dopo un paio di giri a vuoto in queste perline il tutto vedete si bloccherà e sarà un po' più stabile un po' più fermo a questo punto dovremo portarci ad uscire da una rocaille 15-0 vedete io sto passando all'interno di questa e il passaggio successivo consiste nell'inserire sul lago due rocaille 15-0 così e rientriamo all'interno della medesima 15-0 dalla quale usciamo vedete? io sto uscendo con il filo da qua rientro dalla parte opposta e tiro bene il filo questo sarà ciò che avremo ottenuto le perline si posizioneranno sopra la prima dovremo fare la stessa cosa anche qui e qui quindi passiamo all'interno della pip all'interno della 15-0 aggiungiamo due 15-0 sul lago e rientriamo nella 15-0 rientriamo nella pip nella 15-0 e ripetiamo anche qui il passaggio terminato il giro questo sarà il risultato a questo punto portiamoci ad uscire dalle due rocaille appena giunte quindi da queste due vedete io sto uscendo dalla seconda che sta prima della pip ed inserisco sull'ago 5 rocaille 15-0 eccole qua non so se le ho messe a fuoco e appunto uscendo da questa rocaille mi vado ad inserire nella coppia di rocaille successiva così saltando la pip e dovete aver cura di posizionare queste 5 rocaille sopra la pip così vedete ora io attraverso entrambe le due rocaille che dividono le pip ed inserisco nuovamente altre 5 rocaille 15-0 e mi inserisco nella coppia successiva poi altre 5 e mi inserisco in quella successiva ancora terminato il giro questo sarà il risultato a questo punto noi dovremo portarci ad uscire dalla terza rocaille del primo archetto che abbiamo costruito in quest'ultimo giro vedete sto uscendo dalla terza ed inserisco sull'ago 2 rocaille 15-0 così e mi vado ad inserire nella terza rocaille dell'archetto successivo quindi conto 1, 2 nella terza ecco qua vedete e tiro bene il filo ecco qua a questo punto inserisco altre 2 rocaille 15-0 mi vado ad inserire anche qui nella terza rocaille quindi conto 1, 2 nella terza vedete lo faccio un'ultima volta quindi inserisco sempre 2 rocaille e anche qua mi inserisco nella terza rocaille dell'archetto quindi 1, 2 qui nella terza e tiro bene il filo vedete questo sarà ciò che avremo ottenuto a questo punto prendiamo il nostro perno e lo andiamo ad inserire qui dentro in questo modo vedete ci entra perfettamente e tiriamo bene il filo vedete tecnicamente l'orecchino blocca il perno vedete però il filo è lento quindi ora dovrò andare a ripassare un pochino in queste ultime perline che ho aggiunto in maniera tale da consolidare il tutto ora lo faccio e poi ve lo mostro l'orecchino è quasi finito ci manca un ultimo passaggio quindi una volta che avremo stretto bene qua dietro passando con nelle ultime perline con il filo portiamoci ad uscire dalla prima rocaille di uno degli archetti da 5 che abbiamo fatto in questi ultimi giri vedete io sto uscendo da questa perlina qua e davanti e davanti sotto mi trovo queste due perline vedete a questo punto inserisco sull'ago due rocaille 15.0 vedete e mi vado ad inserire nell'archetto successivo qua così vedete in questo modo andrò a coprire questa parte di perno che è visibile vedete e in più rafforzerò ulteriormente il lavoro ecco qua vedete come quindi adesso passo anche nelle restanti 15.0 dell'archetto quindi nella terza aspettate che il filo mi sia imbrogliato nella quarta e nella quinta anche così e di nuovo una volta che esco da questa inserisco due rocaille 15.0 vedete e mi vado ad inserire nella prima dell'archetto di 5 successivo vedete mi inserisco nella prima nella seconda in tutte le altre e ripeto questo passaggio un'ultima volta vedete in questo modo abbiamo aggiunto sia qui che qui due rocaille in più ci manca da aggiungerle anche qua in modo da coprire vedete qua il perno che è visibile invece qua non lo è più vedete quindi lo faccio un'ultima volta lo facciamo insieme ok quindi passo in tutte le rocaille dell'archetto di 5 perline inserisco sull'ago due rocaille 15.0 ed uscendo da questa rocaille mi inserisco nell'archetto successivo così ecco qua a questo punto io passo un po' in tutte le perline a caso in modo da rafforzare ulteriormente qua dietro il lavoro in maniera tale che il perno sia ben saldo faccio diversi nodini se volete passate anche sul davanti della lavorazione per bloccare ulteriormente i petali le varie perline e poi una volta che sarete soddisfatti dopo aver fatto 3, 4, 5 nodini tagliate il filo in eccesso e il nostro orecchino sarà pronto ecco qua sono ripassata in tutte quante le perline più e più volte io vi consiglio di perderci un po' di tempo magari e passare tante volte fare diversi nodini perché in questo modo la lavorazione sarà veramente stabile e salda e magari è un po' noioso mi rendo conto però in questo modo sarete sicuri che il perno è ben attaccato insomma e non rischia di allentarsi la lavorazione oppure insomma di sfarsi e così vi consiglio appunto di fare diversi nodini e passare più e più volte nella lavorazione e questo è l'orecchino terminato ecco qua il secondo mi dispiace non avere che non ho i perni e le farfalline dorate perché effettivamente qui avendo utilizzato delle perline dorate sarebbe stato insomma più più bello se avessi avuto anche i perni dorati però insomma considerando che comunque stanno sul retro e all'obone anche si noterà insomma ecco e ora vi mostro anche gli altri non so come mostrarveli così io spero che questi orecchini vi piacciano che il tutorial sia stato chiaro come sempre se c'è qualcosa che non è chiaro o avete domande scrivetemi giù nei commenti ditemi che ne pensate di questi orecchini io li trovo molto molto allegri molto estivi spizzarritevi a farne in tutti i colori presto arriverà appunto il tutorial del ciondolo del bracciale intanto io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao